Questo video parla della notte trascorsa di guerra e parla anche dei vari fronti di guerra. Ho utilizzato qui i servizi del TG5 e del TG4 che ringrazio per avermi, per quello che stanno facendo, che è veramente una cosa fatta bene, i servizi sono fatti bene, quindi sono utili per capire meglio la situazione. Nelle ultimissime ore si sono fermati scontri e bombardamenti, almeno a Kiev, nell'attesa dell'esito dei negoziati. La capitale è completamente svuotata per il coprifuoco, stamane appare relativamente tranquilla. Ma furiosi sono stati gli scontri a Kharkiv, ad est. La seconda città del paese ancora resiste, distrutti i lunghi convogli corazzati dei russi. Altri mezzi di Mosca si sono fermati per mancanza di carburante, la loro avanzata sembra rallentare. Anche a Buccia, appena fuori Kiev, è stata battaglia senza quartiere. Il sindaco mostra un'intera area bombardata. Le autorità della capitale denunciano 352 civili uccisi, fra cui 16 bambini. Ma la battaglia a Buccia è vinta, fermano i soldati ucraini, mentre osservano i mezzi distrutti dei russi. Molti di loro sono stati fatti prigionieri, gli si chiede il nome e il reparto, poi tutti danno la stessa risposta. Ci hanno detto che stavamo facendo delle esercitazioni. Questi sono ragazzi semplici, ora sono diventati riservisti, nel cuore hanno lo spirito cosacco. Questo ufficiale ucraino è da qualche giorno a fastiva, regione di Kiev, per addestrare i volontari all'uso delle armi e al primo soccorso. Fronte opposto fra i reparti filorussi. Hanno conquistato Stanistia nel Donbass ed intendono scendere verso lo strategico porto di Mariupol. Obiettivo finale è la bellissima città di Odessa, ancora non toccata dalla guerra, ma dove ora si stanno chiamando gli uomini alle armi. Le immagini arrivano da questa abitazione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, e raccontano una notte la quinta di guerra, riempita dai rumori delle esplosioni di colpi di mortaio, missili e mitragliatrici, e preceduta dall'ordine di Putin di allerta del sistema difensivo nucleare. Alle tre ancora un'ondata di boati a scosso dopo alcune ore di calma apparente, Kiev e Kharkiv, dove da ieri infuriano i combattimenti con le truppe ucraine che avrebbero riguadagnato il controllo della città. Le forze russe sono invece entrate nella notte a Berdyansk, porto strategico sulla costa meridionale dell'Ucraina, a renderlo noto il sindaco, mentre, secondo la ucrianska Pravda, un missile russo avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro dei Cernyiv. Sarebbe ancora in fiamme e non è chiaro il numero delle vittime. Consumata nell'attesa dell'incontro del presidente Kaczynski Stavania Gomel in Bielorussia per avviare i negoziati con Mosca, la notte è trascorsa a carica di speranze nei rifugi, ma senza troppe aspettative. Gloria all'Ucraina, urlano in coro centinaia di persone fra le abitazioni di questa cittadina bielorussa, a dimostrazione della solidarietà fra le popolazioni. Eppure, proprio il paese del dittatore Lukashenko, secondo il Kiev Independent, in una notizia tutta da verificare, sarebbe sul punto di entrare in guerra al fianco dei russi. Anzi, i suoi primi paragadutisti potrebbero essere già decollati alle 5 ora locale per unirsi alle truppe di Mosca, dopo che nelle scorse ore è passato un referendum costituzionale che consentirebbe alla Russia di installare armi nucleari sul suo territorio. Kiev è circondata ed è ormai impossibile un'ulteriore evacuazione di civili, ha detto ieri il sindaco, quando il bilancio delle vittime è salito ad Armino, 352 civili uccisi, inclusi 14 bambini. Non è chiaro, invece, quante possano essere le vittime russe. Nella notte è stato diramato da Kiev il video della distruzione di una batteria di missili russi con un drone. Intanto l'OMS lancia l'allarme. Negli ospedali ucraini manca l'ossigeno, le riserve bastano appena per le prossime 24 ore.